Un risultato che non conta ma la prestazione a dare soddisfazioni. L'amichevole tra Nuova Sondrio Calcio e Modena è terminata 4-0 per gli Emiliani ma la sfida del Braglia è stata importantissima per mister Fabio Fraschetti che può così trarre buone conclusioni dalla trasferta con la formazione di Serie B. Quello che mi aspettavo, chiaramente abbiamo affrontato una squadra migliore di noi però abbiamo tenuto botta bene, abbiamo avuto anche l'occasione colpendo un palo sullo 0-0 di andare in vantaggio, i ragazzi hanno fatto quello che le era concesso di fare con impegno, abbiamo avuto qualche altra occasione, abbiamo subito 4 gol, un paio nel finale quando erano anche in campo un po' di ragazzi però ciò non toglie che le cose sono andate per come si sperava, abbiamo messo dentro tanti minuti perché giocare 60-70 minuti con queste squadre qui equivale a 90 minuti abbondanti del campionato nostro quindi una splendida giornata per i ragazzi che ricorderanno sicuramente per lungo tempo e un ringraziamento al direttore che ci ha fatto questo regalo. Sul campo il muro valtellinese ha retto per più di un tempo concedendo solo un gol al diciottesimo con Duca e rimanendo in partita fino al 55esimo. In realtà senza busto è capitano Lamia ma con l'esperto centrocampista Matteo Serotti i sondriesi sono anche andati vicini alla rete in avvio partita. Quindi al decimo della ripresa è arrivata la rete del raddoppio dei canarini con Dio che ha sfruttato tutta la sua velocità e la sua abilità per battere Rodriguez. La nuova Sondria non si è resa, anzi un minuto più tardi è stato Martinez a provare la conclusione trovando però attento Sekulin. Al 65esimo il Modena ha rotondato lo score sempre con Dio e a 5 minuti dalla fine è arrivata la tripletta dall'attaccante di casa che ha mandato i titoli di coda sul match. Oggi sono proseguiti gli allenamenti alla Castellina mentre sabato è previsto il test con l'Olympic Morbegno.